Mercoledì mattina, cerimonia di alza bandiera nella caserma Oreste Salomone di Prato della Valle, sede del Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, che mensilmente vede la partecipazione delle autorità civili e militari della città di Padova. Dopo la resa degli onori al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, da parte di un picchetto in armi del Regimento Lagunari Serenissima, accompagnato per l'occasione dalla fanfara della Brigata Ariete, durante la cerimonia è stata ricordata la figura del generale Elia Rossi Passavanti, militare e politico italiano, uno dei due soli italiani ad essere stato decorato di medaglia d'oro al valor militare nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale, in cui si rese protagonista di incredibili atti di eroismo. A tale figura è stata dedicata la copertina del calendasercito 2016. Al termine, un briefing sulle capacità operative espresse dall'Alto Comando di Padova è stato presentato al Presidente Zaia. Presenti anche una settantina di studenti dell'Istituto Comprensivo Ricci Curbastro di Padova, che hanno partecipato nella mattinata a lezioni di carattere storico e socioeducativo, quali i principi fondamentali della Costituzione italiana, la storia del tricolore e alcune nozioni basiche di primo soccorso.